250.000 euro in strutture sportive, una iniezione di fondi indirizzati a tutte le attività svolte all'aperto attraverso una riqualificazione di parchi e aree pubbliche che permetteranno proprio all'avvio della bella stagione agli amanti degli sport open di usufruire sotto casa di spazi adibiti al loro sport preferito o di vivere assieme ai propri figli o ad amici momenti di svago durante il tempo libero. Nessun quartiere è stato tralasciato come anche nessun tipo di attività compreso lo skate come a Sant'Orso dove si sta risistemando l'area per gli sportivi funamboli dell'equilibrismo su tavola a rotelle sempre alla ricerca di drill spettacolari magari utilizzando infrastrutture estemporanee. Questa forse di Sant'Orso con questa pista da skateboard è quella più importante come investimento di riqualificazione ma ci sono tante altre aree c'è l'area di San Lazzaro vicino al palazzetto dello sport l'area di via Petri a Rosciano in via Antonioni a Tombaccia nel quartiere dove c'è un parco e un'area sportiva a Centinarola in via Monfalcone dove riqualificheremo il fondo di un campo da basket alla Paleotta in via Morganti in via l'Adriatico a Sassonia a Sant'Orso la pista di skate il circuito Marconi con alcuni piccoli interventi via Boccioni via Calamandrei l'area di Gimarre in via Cena e l'area Fenile in via Coppi. Ben 13 aree saranno risistemate e dove saranno migliorate strutture esistenti o in alcuni casi ripristinate zone silenti o ferme da tempo come i campetti in cemento al fianco del palazzetto dello sport dove vedrà alla luce un campo da playground nuovo di Zecca. Quindi come comune abbiamo raccolto credo 4 anni di segnalazioni ma forse anche di più di ragazzi con email, con richieste anche su Facebook di ragazzi che chiedevano di ripristinare i giochi. In questo caso ci siamo concentrati sulla pallacanestro, sul basket, assieme anche alla società di basket che poi fa allenamento qui al palazzetto abbiamo deciso di dare uno spazio in più anche da aprile finché la stagione lo permette per fare sport all'aria aperta. Di sport non ce n'è mai abbastanza, è un modo per socializzare e soprattutto per tirare via i ragazzi da situazioni sgradevoli. Esatto, soprattutto coinvolgeremo le associazioni nel senso che dall'inaugurazione in poi a partire dallo skate ma in questi luoghi vorremmo poi avere anche la possibilità di fare tornei estivi con le associazioni che organizzano che danno un punto di ritrovo ai ragazzi, questo è importantissimo. È una rigenerazione urbana, un luogo non utilizzato che riprende vita con lo sport.